Musica Mi sono avvicinato al mondo della pizza per la passione che mi è stata trasmessa seguendo dei corsi focalizzati sul mondo dell'arte bianca. La previata fabbrica pizza di Bassano del Grappa si trova a pochi passi dal ponte degli Alpini che da pochi anni è anche diventato monumento nazionale. Musica Il Prosecco d'Oc secondo me accompagna molto bene le pizze presenti nel nostro menù. Musica Quello che cerco dalla pizza che propongo è sempre comunque una bella fragranza, una pizza leggera, molto digeribile e che faccia emozionare soprattutto le persone. Musica 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 Musica